fratelli non facciamo ste cazzate anche perché voglio dire non non è che comanda lui se uno decide di non vedere non c'è da vedere appunto basta non esiste vedi peppinello Bartolo sta dormendo va bene lascialo perdere degli che non c'è da vedere nessuno stop glielo dici chiaramente anche perché loro lo sanno quello che è successo l'altra volta è ovvio che non non fare ste cazzate perché lo sai che non hanno senso perché ci facciamo male solo noi stessi quindi devi dire a loro che non esiste punto glielo dici chiaramente che non non voglio dire niente e nessuno e non esiste proprio c'è anche perché quel motron po se ne va quindi da star a rompere le balle ad alta mura sicuro che domani mattina me lo ritrovo di nuovo davanti alle balle va bene quindi a quel che non esiste proprio non ne parliamo senza agitarti capito fratello senza agitarci tra un po ci vediamo ciao cuore mio ciao fino a chiazzo che c'è pure il binocolo tutto il male che è stato fatto si si riverserà su di lui prima o poi ciao ciao figo ciao